...dì di suono... ...dì la pari tu voi, indipo me stavo stato... ma so Sì, lo vediamo in questo video. c'è una barra? c'è una barra? non c'è una barra? andiamo a tutti! hai due? non c'è una barra? non c'è una barra? non c'è una barra? si può piettello? ma non c'è una barra? oh, è una barra? no 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti.